Abbiamo ragione di credere che questa notte dopo l'approvazione in Senato della riforma costituzionale i padri costituenti del 1946 si saranno, come dire, rivoltati nelle tombe. Vorremmo avere il conforto di persone del calibro di Piero Calamandrei, di Giorgio Lapira, di Luigi Einaudi, di Pertini, Togliatti, Benedetto Croce, tanto per citare alcuni dei nomi più illustri messi al cospetto dei nuovi padri costituenti. Quelli che ieri hanno scritto un pezzo della Costituzione all'interno di una maggioranza che è sostenuta da parlamentari che godono della immunità coinvolti in inchieste giudiziarie con reati plurimi che vanno dalla bancarotta alla concussione, dall'associazione a delinquere alla corruzione. Un nome potrebbe essere quello del senatore molfettese Antonio Azzollini che è delle nostre parti, ma c'è anche un altro bel elenco di senatori coinvolti, sono del PD, coinvolti nella inchiesta di mafia capitale. Sapere che tra coloro che hanno contribuito a riscrivere un pezzo della Costituzione italiana ci sono i voti di un personaggio che si chiama Dennis Verdini fa un po' senso, una sorta di cavaliere nero la cui immagine provoca forti emozioni, talmente forti da farti venire voglia di prendere il passaporto e cambiare cittadinanza perché per come siamo messi qui sembra che al peggio non vi sia alcun limite. Il PD, che è ormai afflitto da una sorta di patologia del gigantismo e che tende quindi ad ingrossare le sue fila pur di incassare il successo con enorme inconscienza e leggerezza, è riuscito perfino a chiedere l'aiuto ad un uomo rinviato a giudizio e plurindagato per concorso in corruzione, truffa, bancarotta fraudolenta, appalti e finanziamenti illeciti. E ci mettiamo anche per l'indebita percezione di fondi per l'editoria. Quest'uomo si chiama per l'appunto Denis Verdini, cui tratti macchiavellici lo hanno sempre reso influente all'ombra della corte berlusconiana. Ed è proprio Verdini che ieri con il suo colpo d'ala, e ala è l'acronimo del movimento politico a cui ha dato origine, ha portato i suoi parlamentari, li ha fatti transitare nella maggioranza sostegno del governo Renzi. Vorrei ricordare un passaggio del discorso di Calamandrei ai giovani sulla Costituzione. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove cadero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione. Andate là, o giovani, col pensiero perché là è nata la nostra Costituzione. Questo diceva Calamandrei ai giovani italiani. Questa è invece una frase ultima, recente, di Denis Verdini. Tutti mi chiedono cosa ci guadagnano a venire con me. Gli rispondo che sono il taxi. Vuoi rimanere al potere? Solo io ti conduco in dieci minuti da Berlusconi a Matteo. Grazie a tutti.